It's me Mario! Ben ritornati ragazzi sul mio canale, oggi proseguiamo la nostra avventura con l'uomo pipistrello, grande uomo pipistrello e Batman Mi raccomando lasciate un mi piace, un pollice in su e iscrivetevi al canale così non perderete neanche un prossimo video su Batman Arkham Origins e sulla sua incredibile storia Bella lì ragazzi, io sono carico, siamo alla polizia di Gotham 8% e oggi vi farò vedere come proseguire Ok, dopo CSI Miami, CSI Batman, CSI sto cazzo, scena del crimine e siamo arrivati alla polizia, al commissariato della polizia E siamo arrivati proprio qui, siamo rimasti qua nella polizia, quindi qua cosa dobbiamo fare? Apri porta, perfetto Batman, butta giù, butta giù, tira giù, 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 giù R1 e entriamo in questo tunnel segreto Siamo alla SWAT, sala conferenza Non ho possibilità contro, intanto vuoi mi amare Perfetto ragazzi Passiamo sopra a questi Cado in silenzio Ok, perfetto, abbiamo superato tutti Chi è? Elimina silenziosamente, non farti vedere, non farti vedere Perfetto Silenziosamente guardia eliminata Ah, voleva prendersi il caffè, no, no, caffetto lo piglio Il profilo ha sbloccato, Brandon, vediamo un posto, Brandon Giaffigo La SWAT, vediamo un posto, possiamo aprirla Penetra Penetra nel sistema, Batman Allora, indoviniamo questa password Servie Servie tutela Ok, porta aperta Fuori questo E fuori anche questo Una volta eliminati Che parla? Allora Giù stupatore Solo interrogatore Vediamo un po' chi c'è Ah, ok, dobbiamo fare il K.O. Questo qua K.O. Bello, bello, bello K.O. Il chiacchierone Dove è andato il chiacchierone? Eccolo qua Abbiamo il chiacchierone Interroga Batman interroga Parla O non andrai da nessuna parte Mai più No, no Dovrei dirtene quattro per come mi hai gettato da quel tetto E invece mi dirai come funziona questo disturbatore Chiedi agli spirri Ce l'hanno nel deposito delle prove Che ne dici? Vogliamo andarne a parlare sul tetto? Ok, ok Hai vinto Inceppa le armi Sblocca le serrature elettroniche, va bene? Ora Mi lascerai andare? Come era finita per te l'ultima volta? Perfetto È un povero Bisogna andare Questa porta chiusa a chiave Qui c'è l'albero di Natale Quindi dobbiamo Proviamo a salire qua sopra Però qua sopra ci sono Ci sono un paio di banditi Quindi dobbiamo eliminarli Beh Addio stronzo Allarme, allarme E un po' chi sono sti qua? Siete amici? Amici Parla con vagabondo Vai in un rifugio per senza tetto Ma scherzi? È lì che ci rastrellano Non capisci? Anarchia ha capito tutto Ma tu Tu non capisci amico Ehi, vagabondo che sonia Vagabondo che non sono altro Sol di tasca non ne ho Ma il malagio mi è rimasto Dove bisogna andare? Allora, apri porta Allora, apri porta Agenda Ehi, gli spogliatoi Che bei spogliatoi Entriamo qua sotto Ma tutto personale Cioè, Batman in arrivo State attenti Se no, vincola Ok, qua Dobbiamo salire sopra Perfetto 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 Allora, no Adesso qua C'è un paio di mie amici da battere Polizia di Gotham Stalla agente Andiamo un po' Proseguiamo Proseguiamo Di qua Di qua Qua c'è la porta chiusa Ok Dobbiamo scassinare Troveremo la password Penetra Penetra La sequenza Penetra con la password Batman Giudice 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 Pace Giudice Di pace Eccolo qua Irruzione Ok Altri poliziotti Facciamo fuori Tutte e due Vediamo un po' Se riusciamo a farle Tutte e due fuori Perfetto Abbiamo fatto i due fuori In un colpo solo Un po' Se possiamo penetrare Lo stesso Si possiamo penetrare Al password Cazzo non funziona su Cosa è successo Connessione 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 Comunicazione Bat Computer È bloccata Ok Le finestre Sono Invece Perfetto Quindi Il Disturbatore Può fare A casa Acquisisce Acquisisce Il Disturbatore Nel deposito Delle prove Quindi qua Non possiamo più accedere Ok Possiamo andare Di qua Ma che cazzo Ma va Fammi Tutti Quanto Ok Abbiamo fatto fuori Questi due Della Sveglia Tanto E Vediamo Sarebbe una via alternativa Secondo queste planimetria Decento E una vacciata Un'unosci Solo E qui C'è Della Qui ci è Penetra Allora Penetriamo La password Defendi Defendi Gotam Sì Batman Defendi Gotman E siamo qua Nell'ascensore Un po' Possiamo Entrare qua Sotto Nell'ascensore Cade Giù Beh Cazzo Ok Che cazzo È questo Dove succede qua Niente Una scrivania Ok Piano inferiore Bene Siamo arrivati Nei piani Inferiori Ok Allora Prendiamo qua E qua Usa 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 Vediamo qua Dobbiamo scendere ancora Vediamo un po' Sì Andiamo Apre porta Apre porta Arriviamo Arriviamo nell'infermeria Delle prove Va bene Va bene Grazie Atrat Già Infermeria Oh Più che l'infermeria Qua è una Sgabuzina È schifo Qua c'è l'ascensore Dobbiamo distruggere questo qua E perfetto Vai Esplodi Distruggi tutto Così Che schifo ragazzi Pozzo Ascensore In disuso Ok Dobbiamo usare questo là sopra Perfetto Batman Salta D'altra parte Che è meglio Salta Di là Ok Usalo lì Bravissimo Così Alla sali sopra Sali sopra E Ok Diriggiamoci di qua Verso Tuna Siamo nel deposito Delle prove Deposito delle prove Dobbiamo trovare Vai Entra qua E Prendiamo Disturbatore Ok Disturbatore Preso Ora dovrei riuscire A bypassare La protezione Della porta Della sala Perfetto Bravissimo Batman Acquisisce Il disturbatore Nel deposito Delle prove Torniamo su E torniamo Elevator Ok Ancora sopra 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 Sali E torniamo Torniamo Ok Perfetto Squadra Investigativa Torniamo Nel Principale Cazzo Stai facendo Ok Ci hanno chiuso Perfetto Qua dobbiamo usare Disturbatore Perfetto Disturbatore Funzionale Andiamo Ora Liberiamo Troviamo La password La password Sautorizzati Sautorizzati Perfetto Porta Aperta Qua Siamo Entrati Perfettamente Tranquilla Devo accedere Al database Criminale Nazionale Si trova Qui Devi passare Molto Tempo Ecco Quell'affare Vai Passa Del tutto La protezione Di Rete Ma Ti serve Un bridge Fisico Dall'intranet Ai cavi Telefonici Esterli Se vuoi Un uplink Da Remoto Una ragazza Che conosce Queste Cosa rischia Di finire In grossi Guari Passano Sotto L'edificio Che cosa I cavi Del telefono Ci puoi Arrivare Dalle forni Aspetta Perché Stai Facendo Questo Perché Ho fatto Una promessa L'azzo L'idato Sono io Cosa 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 Sfuggi Dalla Polizia Cosa 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 Andiamo Con il prossimo episodio Qui Con Batman Arkham Origins Bella